La CGL, che affianca i lavoratori spesso stranieri nella lotta contro lo sfruttamento da parte dei caporali nelle campagne pugliesi, nell'ultimo numero del periodico online FALS, fa un punto sulla situazione in Puglia. Per vedere con i suoi occhi gli schiavi del terzo millennio, anche il ministro Cecil Chiang è venuta in Puglia il 21 luglio scorso. Un blitz all'ex Masseria Boncuri nell'agro di Nardò, luogo simbolo dello sfruttamento degli immigrati impiegati nella raccolta delle anguri e dei pomodori, dove due anni fa si registrò il primo sciopero dei braccianti contro i caporali. In verità a Nardò, come nel resto della Puglia, denuncia la CGL, poco o nulla è cambiato sul piano delle condizioni di lavoro e dell'accoglienza per i lavoratori che si spostano lungo la regione seguendo le attività stagionali di raccolta, dalle angurie a Nardò alla raccolta dei pomodori nella Capitanata, dalle olive a Ortaggio in Salento alle vigne del Tavoliere. Nero e Cottimo la fanno sempre da padrone. I dati forniti dalla Direzione regionale del lavoro per la Puglia nell'ambito dell'osservatorio sui reati nel settore agricolo e alimentare parlano chiaro. La metà dei lavoratori delle aziende ispezionate è a nero. Il numero di attività agricole irregolari per lavoro sommerso oscilla dal 70% del Salento al 54% della provincia di Bari, dal 50% di Brindisi al 40% del Foggiano. Ma ora il clima sembra cambiato, si legge nel lungo articolo pubblicato su Files. Gli strumenti per azioni mirate e di contrasto allo sfruttamento ci sono, così come risorse economiche e finalmente un coordinamento intelligente tra istituzioni, forze dell'ordine e anti-ispettivi. La legge regionale numero 28 del 2006, avversata dagli imprenditori agricoli, viene finalmente applicata. Sono state definite le cosiddette liste di prenotazione per aggirare l'alibi delle imprese sul mancato funzionamento dei centri per l'impiego e l'impossibilità di individuare mano d'opera se non attraverso illecite intermediazioni. Si è arrivati ad un coordinamento, una sorta di intelligence per unificare e potenziare i servizi ispettivi. Senza controlli, se non sporadici, con scarso personale a fronte di un territorio vastissimo, vigeva una sorta di garanzia di impunità che rendeva più conveniente sfruttare e ricorrere ai caporali che rispettare la legge. Oggi, con il tavolo interforze che coinvolge prefetture, carabinieri, fiamme gialle, direzione del lavoro, IMSS e INAIL, si unificano le azioni per arrivare a colpire al cuore le imprese che violano le norme. La pena, oltre quelle previste dal codice, sarà la revoca di ogni contributo pubblico.